A colpo di luna signori c'è davvero spazio per tutti, poi i miei compagni di viaggio, le sorprese dalle botole, le canzoni dell'orchestra, si chiama canzoni poveretta, no scusa, no dicevo qui a colpo di luna ecco c'è davvero spazio per tutti, tutti i cani e porci, tranne me neanche un invito quest'anno Ingrata Gingarella, no dicevo che ci saranno i miei compagni di viaggio, posso dire una cosa sui compagni di viaggio? Mai più senza fine, ornella per favore, per favore un attimo che è iniziato adesso lo show, chiama lo show ecco le canzonette, il luna park, ma che due maroni, no no dai scusa, no 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 perché non va bene, è l'inizio dello spettacolo, dello show, arrivi tu che mi dici che due maroni, ornella, ma per una volta che una cosa sono stata anch'io a luna park eh, con Gino Paoli, si, siamo andati su Bruco Mela, quando la macchinina è entrata dentro alla mela, il Gino mi ha fatto vedere il bruco, no 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 che è, ma scusa, no le battute no dai su adesso non, le battute, ornella non mi sembra il momento, è proprio l'inizio del, è l'inizio della puntata, è solo l'inizio della puntata, quanto dura sto pippone giusto per capi, no Sabrina, dai, no te lo chiedo una cosa, ma l'abbiamo prenotata ai ristoranti, no perché veramente dammela gioia, perché se no, no no, non te lo permetto, non te lo, no no no, aspetta un attimo, perché veramente era meglio che cenavo prima, capito? Così io stavo a pancia piena e sopportavo meglio sta pesantata, veramente appesantata, la pagliacetta invigliosta, oh mio mio, ma guarda che stai sorridendo eh, ma che cosa mi vuoi ritenere fuori da questo show, magari stai impazzita veramente, e invece no, signore e signori, l'avete riconosciuta? Bella Rodriguez, buonasera a tutti, buonasera, ecco, ci mancava pure la subretta argentina, ma come ti permetti eh, sono una ragazza temida, non sai che stare davanti a tutta questa gente vestita, non è facile per me, ma scusa un attimo, è ramedo eh, il terreno, ma che canale è questo? Ma dove ci troviamo a questo? Questo veramente sarebbe Raiuno eh, oh mio Dio, Raiuno, mi caglia l'espelina, mi caglia è vestito pazzesco tesoro, è Versace, sì Donatella, genio, genio, scusate, allora io, va bene, volevo un secondo dedicare due parole al Teatro Cinque di Federico Fellini che ci ha ospitato. e anche bello, siamo al teatro Cinque, ah, 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 ah ah, ah ah, ah. Ve lo abbiamo fatto tatti e qui, e, sin, siamo, tutta la fattaptic. Dico, vengo, vengo, si, dico lasciato sono, ah 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 ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Vengo, lasciatemi un secondo, un secondo e un primo e subito ce ne legati amica, No, la Minetti, però, la Minetti non era prevista stasera. Love of my life, sono in station, non c'è più nessuno in mia oggettina, mi ospiti te per qualche modo. No, grazie, proprio no. Ma dicevo perché questa sera saremo a novembre, la città si spesa e non ne si prego, davvero, per favore. Un momento perché non capisco più niente. No, scusate, no, 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 veramente. Un secondo, però, ve lo chiedo performance. Sono Marina Abramovic, faccio arte contemporanea. Questa è performance. Questa è performance. Questo è autolesionismo. Vabbè, però, sentite, ragazzi, iniziamo con la puntata, perché io vedo che l'inizio sarà stato il bene, sarà stato il male. O sarà stato boh. Niente, io volevo un inizio con un filo di eleganza. La danza eleganza, eh? Povera piccola, salti in banco, come stai? Carla! Carla! Signora Fracci, bentornata! Fracci, Carla, piacere. Lei è? Virginia Raffaele. Ah, Raffaele, eh? Che uomo femminile. No, veramente, io sono contentissima. Signora Fracci, che anche lei abbia visto lo show. Ardita iniziativa chiamare show questo zoppicante saggio di fine anno. Eh? Quanta tenerezza, signori, quanta tenerezza. Ora, se non vi perdona, io tornerei alla sbarra. Ah, perché lei lassù continua ad allenarsi. Certo, non si molla un cazzo. Ha detto mazzo, no? Ho detto proprio che è chiarissimo. Grazie. Ciao, Carla! Grazie. Grazie di tutto. No, io volevo, volevo solo, volevo veramente dire soltanto in conclusione, in conclusione erotico. Guarda, ci stanno ancora tutti i Claudi, capi? Ah, è stupendo, qua, la mia, non siete bene, a novembre, oh mio Dio, oh mio Dio. Signore, genio, ignori, basta! Basta! Che è sta cosa? Io volevo solamente iniziare l'ultima puntata e salutare chi c'è stato, chi c'è, chi non c'è più e chi ci sarà. Sempre se ci inviti di Australia. Basta, va bene! È infestato sto, 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 ma è grazie, ma è? Allora, grazie, va bene, iniziamo.